Anticipazioni, Endless Love, Banu e Tariq, un amore travagliato. Le puntate turche di, Endless Love, svelano sviluppi inaspettati nella vita di Banu e Tariq. La loro storia si complica quando Tariq scopre il tradimento di sua moglie Banu. La rivelazione che è stata lei a tradire i suoi genitori lo lascia stupefatto e rattristato, Banu cerca in vano di giustificarsi, ma il dolore di Tariq sembra troppo profondo per concessioni. Le conseguenze di questo rivelato segreto potrebbero essere fatali per il loro matrimonio. La tensione è palpabile, soprattutto dopo che la madre di Tariq, all'oscuro del tradimento, prova senza successo a calmare gli animi tra i due. Nonostante la situazione tesa, Tariq decide di offrire a Banu una seconda opportunità. Tuttavia, la relazione è tutt'altro che rose e fiori. Banu fatica a liberarsi dall'ombra del suo passato con Emir. Sento che quello che ho vissuto mi brucia dentro, afferma Banu. Le ferite ancora aperte e la fiducia difficile da ristabilire. Tariq, comunque, le sta accanto, promettendole di farla sentire amata e parte della sua famiglia. Voglio che tu faccia parte della mia famiglia. Perché ti amo, le assicura. Prospettando un futuro insieme nonostante le difficoltà. Si prospettano quindi momenti intensi e ricchi di emozioni per i telespettatori di Endless Love. Che si trovano a tifare per la coppia nonostante gli ostacoli che la vita sembra continuamente mettere sul loro cammino. Riusciranno Banu e Tariq a superare questi intoppi e a costruire un futuro insieme? Le prossime puntate sveleranno il loro destino. Grazie. Grazie.